Aspiranti CGI Artist, benvenuti alla tredicesima lezione su questo corso di Blender. Oggi andremo ad approfondire gli Empty e i legami di parentela. Let's do it! Allora, questo è il nostro Blender, il nostro Splash Screen, che chiudiamo. Iniziamo intanto cancellando il nostro cubo, premendo It e dannogli l'ok, cliccando sul comando Delete. E adesso andiamo ad approfondire il concetto di Empty che abbiamo già introdotto la volta scorsa. Un Empty è un oggetto vuoto che non contiene dati e che essenzialmente si riferisce a una coordinata fisica. Ricordatevi in particolare che gli Empty non appariranno mai nel vostro rendering. Per la qualcosa, se inserite immagini di riferimento, che come abbiamo visto la volta scorsa, sono un particolare tipo di Empty, non vi dovete preoccupare di andare a nasconderle, perché nel risultato finale non appariranno. Esistono vari tipi di Empty, ma sono tutti assolutamente indifferenti. Perché, come sappiamo, gli Empty non contengono coordinate. Ci ne sono tipi diversi, ma le diverse tipologie si differenziano solo per la loro forma. Perché gli Empty contengono esclusivamente una coordinata, una posizione all'interno del nostro spazio. Però Blender deve trovare un modo per rappresentare graficamente questa posizione, quindi per farci vedere questa coordinata. Perché sì, gli Empty sono sì, appunto, nient'altro che una coordinata. Ma Blender crea queste linee di costruzione, queste linee invisibili, queste linee fittizie, per darci, beh sì, semplicemente per darci un'idea, semplicemente per farci capire dove sono queste coordinate fisiche. In altre parole, queste coordinate, sì, questi oggetti praticamente fittizi, in altre parole, queste linee non sono vere linee, sono semplicemente uno strumento che Blender usa per farci vedere la posizione esatta della coordinata. Ma tutti questi non sono veri e propri oggetti, sono esclusivamente coordinate fisiche, che Blender rappresenta, che Blender ci mostra attraverso delle linee, che però ovviamente non esistono. E, di conseguenza, è assolutamente indifferente l'utilizzo di un Empty rispetto a un altro. Ovviamente, magari, in una scena molto complessa, l'Empty Play Nazis, il primo, che è quello più usato, se è una scena veramente molto complessa, può essere, diciamo, sconsigliabile il Play Nazis, perché magari non riuscite a distinguerlo bene. In una scena molto complessa, userei, per esempio, questo qui, quello che ho selezionato adesso, il... l'Empty di tipo Arrows, perché grazie ai nomi degli assi, è facilissimo da individuare. Però, ricordatevi, è assolutamente indifferente l'uso di uno rispetto a un altro. L'unico motivo per cui scegliere ne uno in particolare, è che io vi sconsiglio di scegliere un Empty, che magari non si nota nella vostra scena. Trovate ne uno, che se dovete individuare all'interno della vostra viewport, lo individuate facilmente. Con M spostiamo tutti gli Empty in una nuova collezione, che magari chiamiamo non Empty, ma Empties, cioè, che è appunto la forma plurale di Empty. Come and Light, per la collezione. Questa la possiamo anche disattivare, che ne so, magari gli diamo anche un colore. Default Empties, la chiamo, per indicare che sono appunto gli Empty di default. Ricordatevi, ognuno di questi Empty può essere spostato, ruotato e scalato, ma non sono oggetti fisici, sono esclusivamente una coordinata, una posizione. E infatti, se anche voi andate nel pannello Object Data, potete scegliere solo che tipo di Empty è, potete anche scegliere il tipo di Empty Image, poi andare a selezionare una vostra immagine all'interno delle vostre cartelle, per esempio le immagini che abbiamo usato nella volta scorsa, e andare ad inserirla. Quindi questo è proprio un tipo di Empty. Tuttavia, l'unica altra opzione che avete, se non scegliete Image, è la dimensione dell'Empty. Adesso andiamo a vedere prima di tutto che funzione possono avere gli Empty. La caratteristica principale degli Empty è che sono invisibili, sono una coordinata, e nonostante adesso vi possano sembrare oggetti diciamo un pochino inutili, vi assicuro che sono veramente molto, molto, molto importanti. e adesso vi vado anche a spiegare il perché. Gli Empty sono effettivamente nient'altro che una posizione all'interno della vostra scena, ma quando dovete per esempio creare un'animazione, può essere molto utile poter settare una posizione in modo che poi non si visualizzi, in modo che appunto vi sia solo quel parametro di posizione. Mettete, ad esempio, che avete il, vedremo in futuro poi come realizzare praticamente questa opzione, ma intanto ve lo voglio spiegare con un esempio, mettete di avere il vostro oggetto camera, che è quello che io adesso ho disegnato in questa parte della viewport. Mettete, che voi vogliate, che questa camera, che il punto focale di questa camera, cioè il punto in cui questa camera mette a fuoco gli oggetti, vedremo sempre in futuro come settarlo, sia all'inizio dell'animazione, questo punto qui, e alla fine dell'animazione, questo punto qui. Quindi volete uno spostamento del punto focale. In altre parole, volete che si sposti una coordinata, cioè quella del punto focale. Come potete fare tutto ciò? Beh, semplicemente, potete, voi direte, beh, se io devo andare ad indicare alla mia camera una coordinata, un punto focale, inserirò un oggetto e gli dirò di mettere a fuoco su quell'oggetto. Per esempio, ci posso inserire un cubo e questo è molto utile se volete effettivamente che la vostra camera metta a fuoco sempre un cubo che si sposta. Ma, se voi volete che cambi nel corso dell'animazione solo il punto focale e solo quello, che dovete fare? Dovete inserire un qualche oggetto, perché poi vedremo che per settare il punto focale possiamo dire alla camera guarda camera metti sempre a fuoco su quel determinato oggetto. Voi direte, niente di più facile, inserisco appunto per esempio un cubo qui, lo animo in modo che alla fine dell'animazione sia qui e in questo modo cambierà anche il punto focale. Ma se io voglio che cambio solo il punto focale non ottengo il risultato che voglio perché vedo anche un cubo che si sposta. Allora voi direte, beh, vado ad applicare al cubo un materiale trasparente. Sì, ma non è molto più semplice se volete che cambi solo la posizione di una coordinata andare ad inserire un empty e animare la posizione di quell'oggetto empty in modo da fare e poi dire alla camera di mettere sempre a fuoco su quell'empty. In altre parole, gli oggetti vuoti vi servono ogni qualvolta che avete la necessità di andare a creare lo spostamento di una coordinata. Oppure facciamo un altro esempio. Mettete che abbiate un piano e lo settiate anzi facciamo per esempio una griglia di cubi una cosa del genere. Ora lo disegno velocemente. E lo settiate in modo che quando un determinato oggetto its lo oltrepassa nella griglia di cubi si crea un rialzo. Quindi ogni volta che una determinata coordinata oltrepassa questa griglia di cubi la attraversa in esse si crea una specie di collinetta. Anche in futuro vedremo come realizzare un effetto di questo genere però lo vedremo in realtà nella parte finale di questo corso. Bene, vedete che si crei una collinetta. Beh, se volete per esempio che la collinetta si crei quando un oggetto vada a attraversare la nostra collinetta niente di più facile basta settare quest'opzione in modo che la collinetta si vada a creare appunto quando la attraversi l'oggetto desiderato. Ma se invece per esempio volete che le collinette si muovano semplicemente lungo la vostra griglia di cubi senza però che vi sia un altro oggetto in mezzo ad interferire perciò ripeto se volete spostare tranquillamente la posizione della vostra collinetta spostando l'oggetto che interagisce con la griglia di cubi beh, se volete spostare la collinetta in modo semplice senza altri oggetti in mezzo potete usare come oggetto tangente quindi come oggetto attraversante della collinetta potete usare come oggetto tangente un oggetto con cui è andata trassettare un materiale trasparente in questo modo alla creazione della collinetta automaticamente lì dove quell'oggetto attraversa la griglia si andrebbe a creare il rilievo ma non si vedrebbero altri oggetti in mezzo a dare fastidio come volete voi però non è molto più semplice stare un empty in altre parole ogni volta che dovete andare a cambiare nel corso di un'animazione una determinata coordinata una determinata posizione è facilissimo eseguirlo usando appunto gli empty quindi in altre parole un empty vi permette di avere una coordinata animabile ed utilizzabile senza doverla settare mediante altri fastidiosi oggetti all'interno nella vostra viewport ma tutto questo magari non è molto utile nella pratica perché vi ho solo fatto degli esempi su come potremo su come ci potrebbero servire gli empty in futuro invece un'ottima applicazione degli empty stessi è quella dei legami di parentela di quale si andiamo a parlare infatti il secondo infatti il secondo argomento di questa lezione non è appunto relativo esclusivamente agli empty ma ai legami di parentela che non comportano necessariamente l'utilizzo di un empty ma molto spesso esso è incluso andiamo ad inserire due oggetti qualsiasi come per esempio un cubo e un toro all'interno della nostra scena andiamo a settore bene magari la forma del toro ecco un po' esagerato facciamo 100 per tutti e due i valori di risoluzione scena poi adesso muovete tranquillamente il vostro toro in mezzo alla vostra scena ok mettete che volete per esempio che il vostro cubo segua il vostro toro quindi volete che se il toro si alza di due metri anche il cubo faccia lo stesso come potete farlo? volete praticamente che il cubo vada a seguire il vostro toro allora selezionate prima l'oggetto che segue dopo l'oggetto che tra virgolette guida quindi il toro in questo modo sarà il toro l'oggetto attivo ctrl p object in questo modo adesso se io vado a ctrl p significa aggiungi un legame di parentela in questo modo se io vado a spostare ruotare o scalare il mio toro la stessa trasformazione la subirà anche il mio cubo vedete che i loro pivot sono stati collegati da una sottile linea tratteggiata che è questa voi direte si interessante ma ma adesso io vado a spiegare le potenziali applicazioni in altre parole il toro se adesso voi andate a vedere il vostro outliner il cubo adesso si trova all'interno del vostro toro perché adesso infatti la mesh l'oggetto cubo va a seguire l'oggetto toro perciò adesso il cubo si trova all'interno di toro è diventata praticamente una parte in particolare voi potete anche creare dei legami più diciamo più complessi per esempio io potrei aggiungere una sfera e dire alla sfera di seguire il mio cubo quindi seleziono prima l'oggetto che segue poi l'oggetto che guida ctrl p object in questo modo se io muovo il toro il cubo lo segue e la sfera segue il cubo se io muovo il cubo la sfera lo segue e se muovo solo la sfera niente segue la sfera in altre parole nel vostro hotliner viene grata una gerarchia di oggetti l'oggetto principale quindi padre è il toro il cubo è tra virgolette il blender lo identifica come child il figlio del toro cioè l'oggetto che lo va a seguire ovunque il toro si muova invece la sfera è l'oggetto tra virgolette child quindi figlio del cubo cioè l'oggetto che va a seguire il cubo dovunque si muova perché ricordatevi l'unica cosa che fa il legame di parentela è fare in modo che se io seleziono l'oggetto padre tutti gli oggetti che gli stanno sotto lo seguono e questa è l'unica cosa che va a fare il legame di parentela perché se io vado a selezionare l'oggetto figlio beh l'oggetto padre è straffermo quindi in altre parole blender mi va a creare questa gerarchia nel mio outliner e quando vado a muovere un oggetto tutti gli oggetti che stavano a un livello gerarchico inferiore si andranno a muovere come si va a muovere l'oggetto selezionato d'altro mondo ogni qual volta che io vado a creare un qualche tipo di ogni volta che io vado a creare un qualche tipo di legame di parentela e seleziono per esempio più oggetti per esempio insieme più cilindri beh io posso anche fare in modo che più oggetti sullo stesso piano seguano un determinato oggetto per esempio io posso selezionare tutti gli oggetti che voglio tutti gli oggetti che mi pare di questi oggetti uno ma solo uno sarà attivo cioè sarà contornato di giallo mentre tutti gli altri saranno contornati di rosso qual è l'oggetto attivo l'ultimo che ho selezionato quello contornato di giallo cioè la sfera infatti i coni sono contornati di rosso se io premo ctrl p object tutti gli oggetti non attivi quindi tutti gli oggetti appunto inattivi cioè i coni andranno a diventare figli della sfera cioè dovunque si muoverà la sfera nella stessa direzione si muoveranno i coni adesso però i coni stavano come vedete sullo stesso piano cioè i coni sono tutti sono tra virgolette oggetti entrambi child della sfera però appunto sullo stesso piano gerarchico cioè se io muovo la sfera si muovono entrambi però tra essi non esiste nessun legame infatti se muovo un cono l'altro resta fermo a questo punto io ho creato tutta una gerarchia il toro è l'oggetto proprio padre quello più in alto nella gerarchia perciò se muovo il toro si muovono tutti gli oggetti se muovo il cubo si muove la sfera lo segue l'oggetto figlio del cubo cioè la sfera e alla sfera seguiranno gli oggetti figli della sfera che si muoveranno come essa e perciò i coni se io muovo la sfera si muoveranno solo gli oggetti figli della sfera cioè appunto i coni questo vale anche per le scale e per le rotazioni e già questo è molto interessante vi faccio notare le linee tratteggiate che collegano i pivot dell'oggetto padre con tutti gli oggetti figlio perché come vi ho fatto notare un oggetto può avere molti più oggetti tipo figlio appunto per esempio se io duplico più volte il cubo beh esso verrà sempre inserito come verrà sempre inserito nella stessa parte della gerarchia perciò se voi duplicate un oggetto figlio di di un altro anche il duplicato verrà inserito appunto come oggetto di tipo figlio dell'oggetto padre per così dire quindi duplichiamo il cubo e duplicandolo ogni duplicato avrà la stessa posizione all'interno della catena gerarchica quindi ogni duplicato automaticamente sarà figlio del toro ma non padre della sfera quello solo l'oggetto cubo iniziale adesso muovendo il toro si muovono tutti gli oggetti muovendo un cubo qualsiasi si muove solo lui perché non ha oggetti figli come vedete dalla gerarchia muovendo questo cubo che ha come oggetto figlio la sfera si muove il cubo ovviamente il soggetto figlio ovviamente e gli oggetti figli degli oggetti figli e così avanti all'infinito per esempio posso anche aggiungere una monkey la nostra bella Susanna vi ricordo che è un easter egg duplicarla duplicarla adesso io vado a premere il ctrl p e gli oggetti inattivi cioè le tre Susanna diventeranno figli dell'oggetto attivo cioè di un cono e adesso questo cono ma solo questo cono andrà a contenere anche le tre Susanna se muovo l'altro cono non succede niente perché non è parte delle tre Susanna ma si muovo questo cono si muoveranno anche esse adesso io posso andare a scalare il tovel mi si scala tutta questa complessa scena ora la grande domanda che sicuramente vi starete ponendo è ok ma a cosa serve tutto questo facciamo un esempio pratico ecco adesso shade smooth al cilindro normal auto smooth è così crea un effetto ottico perfetto adesso selezioniamo il toro tutti i suoi figli quindi praticamente tutti questi oggetti e li spostiamo a una nuova collezione m new collection e la chiamiamo che ne so parentela parentela 1 per fare proprio un esempio parentela 1 anche il cilindro lo devo includere in parentela 1 move to collection parentela 1 adesso cambiamo tipo il colore in verde e la disattiviamo adesso andiamo a fare un esempio pratico per comprendere l'utilità di tutto ciò e dopo andremo a riutilizzare di nuovo la collezione parentela 1 per andare a scoprire i misteri delle selezioni delle gambe di parentela e quello sarà però proprio l'ultimo argomento di questa lezione prima andiamo a capire prima l'utilità pratica e poi cosa c'entra tutto ciò con gli etti allora immaginiamo velocemente che io crei che ne so una semplice stronare adesso faccio qualcosa di veramente molto molto semplice tanto per farvi un esempio quindi una cosa del genere shift d esc grab y 2 meno così lo metto nella direzione giusta s z contro il punto per muovere solo il punto pivot grab y 1 e così il punto contro al punto per tornare a poter lavorare su tutto l'oggetto in questo modo il punto pivot si trova in corrispondenza di questa faccia in corrispondenza della faccia laterale del cubo più grande scaliamo sull'asse y e sull'asse z questa specie di ala vuotiamola un poco e inseriamola così e poi adesso facciamo s it's grab it's molto bene forse però ok lx molto bene shift d grab y 2 e adesso lo specchiamo sull'asse delle y quindi andiamo al comando mirror e y global e così abbiamo ottenuto una figura simmetrica selezioniamo entrambe le due ali s z grab 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 it's quindi g it's s y dell'oggetto intero s y selezionando tutte e due le ali andrà a scalare l'intero sistema alare lungo il centro del lungo il baricentro di di tutto appunto il sistema alare che coincide con il centro del dell'oggetto centrale appunto adesso andiamo qua in questa ala che ne so i e per qualcosa del genere proprio perché è qualcosa di molto semplice perché normalmente perché un astronave ci vorrebbe di lavoro noi adesso facciamo qualcosa di veramente molto elementare 3 e it's per fare in modo di inserire per bene la direzione dell'estrusione i e it's così studiamo sempre nella direzione giusta ctrl r 2 loop cut and slide selezioniamo un loop cut slide per avvicinarli un po' usiamo questo comando il factor lo mettiamo punto venticinque facciamo anche ora andiamo a selezionare questo loop sempre mettendoci su percursore premendo alto e cliccando trasciniamo in questo caso sempre con un factor appunto venticinque così siamo sicuri che sia simmetrico adesso selezioniamo questa faccia e premiamo e it's una cosa del genere ecco andiamo dietro così facciamo anche un piccolo esercizio di modellazione ok non male selezioniamo queste quattro facce i per usare il comando insert rub it's per muoverle sull'asse delle it's poi qua qua e qua si creano facce infinitamente sottili molto evidenti non ci piacciono molto ma è facile risolvere estude estude individual per essere sicuri di fare un'istruzione identica a quella che ci sarebbe escludendole una per una e otteniamo un risultato come questo ecco dai volete creare un piccolo alettone superiore c'è un'istruzione perchè abbiamo selezionato entrambe queste facce facciamo anzi extrude individual ecco abbiamo ottenuto il nostro bel risultato adesso però se io muovo quest'astronave vedo che mi si muove solo il magari prendiamo questi oggetti, li rinominiamo anche solo la parte centrale le chiamiamo poi parte centrale alla 1 questa è veramente una strada molto semplice che abbiamo aperto in pochi secondi control p m scusate perchè dobbiamo muovere una nuova collezione quindi prendiamo n new collection astronave ok adesso tornando al problema di prima se adesso seleziono la mia astronave e la muovo mi si muove solo la parte centrale e voi direte dov'è il problema quando la muovi seleziona tutta l'astronave e a questo punto puoi lavorarci come un solo oggetto e è perfettamente vero il come sistema funziona solo che così facendo ogni qual volta che vado ad utilizzare la mia astronave devo andare a selezionare tutti gli oggetti assicurandomi di non tralasciarne nessuno il che è anche semplice quando parliamo di tre oggetti ma mettete un modello molto complesso che comprende decine di oggetti voi direte va bene le metti nella stessa collezione della hotliner è semplice e ho capito che è semplice però comunque sia è comunque diciamo almeno una perdita di tempo dovrei selezionare tutti uno per uno ok ok allora un bel trucco qual è seleziono tutti gli oggetti mi è sicuro che la parte centrale sia l'oggetto attivo premo ctrl p object in questo modo mi basta selezionare la parte centrale e si muove tutta la mia astronave in modo veramente molto molto semplice vi faccio notare che lui non ha potuto in questo caso trasferire alla 1 e alla 2 sotto parte centrale in modo così semplice perché normalmente perché prima quando lavoravamo nel progetto parentella 1 lui prendeva gli oggetti che doveva utilizzare come child e semplicemente li metteva sotto l'oggetto parent quindi l'oggetto genitore con l'oggetto chi era seguito in questo caso non l'ho potuto fare perché alla 1 e alla 2 si trovavano in una collezione diversa rispetto a parte centrale infatti parte centrale scava direttamente in astronave alla 1 e alla 2 nella sotto collezione ali allora lui che ha fatto invece di trasferire alla 1 e alla 2 sotto parte centrale me li ha linkati in questo modo non ha modificato la mia girarchia dell'outliner però mi ha dato con però anche senza modificare la girarchia dell'outliner mi ha comunque dato la possibilità di osservare la mia girarchia della parentela e quindi questo può essere sicuramente molto molto utile appunto per quanto io adesso vi faccio notare se io seleziono un'ala e se si muove ancora indipendentemente perché sappiamo che se io seleziono il genitore si muovono anche i figli ma se seleziono il figlio si muovono solo i figli del figlio ma non l'oggetto genitore allora magari se la scena è complessa seleziono la mia astronave magari mi sbaglio seleziono un'ala la sposto e sposto solo l'ala poi con ctrl z ok risolvo però per essere sicuri di selezionare direttamente l'astronave basta rendere in selezionabili alla 1 e alla 2 in questo modo quando vado a selezionare non posso selezionare alla 1 e alla 2 e così se seleziono qualcosa sono sicuro che è la parte centrale bene in questo modo abbiamo già visto un esempio pratico dell'applicazione di queste tecniche disattiviamo anche la collezione astronave e adesso proseguiamo vedete vi faccio notare che ali anche se nasconde l'oggetto astronave mi fa comunque vedere i trattini le linee tratteggiate verso il punto dove esiste il pivot dell'oggetto genitore delle ali quindi dell'oggetto parent da cui appunto il nome è legame di parentela molto bene adesso andiamo a vedere cosa c'entrano gli empty immaginiamo dire ora in astronave era abbastanza evidente che esistesse un oggetto che evidentemente doveva essere il padre e degli oggetti che invece dovevano essere gli oggetti figlio cioè era evidente che se io volevo effettuare una traslazione dovevo agire sulla parte centrale perché è un oggetto evidentemente meritante di trovarsi in un posto superiore della gerarchia di oggetti per così dire tuttavia mettiamo di avere che ne so modelliamo ad esempio modelliamo queste sfere facciamo finta di trasformarle in piccole rocce poi in futuro vedremo che il modo più semplice per creare delle rocce in realtà è lo scalping tuttavia non l'abbiamo ancora preso perciò ci dobbiamo adattare ad utilizzare l'editing che conosciamo quindi il proportional editing posso modellare qualcosa che assomiglia lontanamente a una goccia intanto è ripeto è solo un esempio lo rinominiamo rock e stiamo al posto adesso mettiamo di avere tante rocce all'interno della nostra scena questo è un esempio pratico per farvi capire l'utilizzo degli empty queste rocce sono tutte uguali non è proprio il massimo però ripeto per ora ci accontentiamo di questo esisterebbe tecnicamente un modo per rendere tutte diverse ogni volta che le duplichiamo però quel metodo lo vedremo in futuro tra qualche lezioni ammettiamo di avere appunto qualche rocce ecco tante rocce fluttuanti tipo una specie di piccolo campo di asteroidi mettiamo che io ho questa specie di piccolo campo di asteroidi e lo voglio spostare quindi muoviamo tutte queste rocce in una nuova collezione e la chiamiamo rocks quindi appunto rocce marrone mi pare un colore adatto allora se io voglio spostare tutte queste rocce è facilissimo basta che le seleziono tutte dall'outliner pure è abbastanza comodo e le muovo poi se non vi va di scorrere lungo l'outliner abbiamo tantissimi metodi di selezione select pattern rock asterisco mi seleziono tutti gli oggetti che si chiamano rock qualcosa in questo modo mi seleziono appunto tutte le mie rocce tuttavia selezionare ogni volta tutte le rocce quando le devo spostare soprattutto se le devo spostare spesso soprattutto se sono tante può essere magari un pochino scomodo ok allora abbiamo visto che un bel modo per risolvere il problema relativo a parecchi movimenti apparecchi oggetti da muovere all'unisolo è l'utilizzo dei legami di parentela voi direte bene quale oggetto devo usare come parent visto così ci sembra logico usare questa roccia perchè diciamo una roccia che si trova al centro tuttavia quando io vuoto scalo muovo che ne so faccio queste trasformazioni beh io personalmente trovo che a un certo punto potrebbe anche essere complicato perchè questi oggetti sono tutti identici vatti a ricordare qual è l'oggetto che hai scelto precisamente come parent voi dite va bene lo vedi dal dal dall'outliner si è vero in effetti potrebbe funzionare non dico che sarebbe sbagliato però gli oggetti sono tutti uguali e uno in particolare lo uso come parent ma questo oggetto è identico a tutti gli altri perciò magari può essere anche intuitivo ok per questo molto spesso per questo in modo molto molto frequente perchè i legami di parentella si utilizzano appunto gli empty invece di quando ho tutti questi oggetti identici invece di fare una parentella con un oggetto qualsiasi di questi identici se io ne voglio uno riconoscibile che appena lo vedo dico ah ok bene questo è l'oggetto parent quindi questo è l'oggetto pad appena lo vedo dico subito ah si ecco l'oggetto parent appena lo vedo un bel modo qual è? utilizzare sorprendentemente un empty inseriamo per esempio un empty tipo arrows ingrandiamolo un poco per vederlo chiaramente selezioniamoli assicuriamoci che l'empty sia attivo ctrl p object magari con keep transform la trasformazione viene mantenuta io magari utilizzo questo perchè è identico ad object solo che la trasformazione verrà sempre mantenuta perciò lo trovo più comodo object keep transform in questo modo muovendo l'empty automaticamente andrò a modificare anche tutte le posizioni dei campi di asteroidi e vi faccio vedere che ogni singola roccia è stata collegata attraverso le linee tratteggiate al pivot del mio empty cioè la parte centrale del mio empty in questo modo vedendo l'empty appena lo vedo ah si ecco subito appena lo vedo capisco subito che è quello l'oggetto parent per esempio lo posso chiamare rox parent che con questo apostrofo dopo rox che si riferisce al genitivo sasso ne praticamente dico padre delle rocce o genitore delle rocce se vuole essere più precisi in questo modo appena vedo questo oggetto dico subito ah si si ecco ecco il mio il mio oggetto parent le posso postare in modo semplice sicuramente non solo è più intuitivo ma anche più sensato perché se gli oggetti sono tutti uguali che senso ha perché scelgo quell'oggetto come parent piuttosto che un altro invece utilizzando l'empty può essere un pochino più semplice ma questo sempre anche per esempio se andate a creare in questo caso mi sono ispirato proprio a questa idea una scena di fantascienza andate a creare per esempio sì una scena di ispirazione fantascientifica create un'ambientazione in space wifi cioè in effetti speciali spaziali create una scena che rappresenta l'universo bellissima sicuramente se volete create per esempio tutta la simulazione di un sistema solare ci mettete anche i dati della fisica comunque fate qualcosa di complesso e in questo corso impareremo a farlo ve lo assicuro beh io personalmente trovo che sarebbe proprio a parere mio molto molto semplice spostare tutto il sistema solare se tutti i diversi oggetti che lo vanno a comporre li inserite come child di un oggetto principale attraverso appunto un legame di parentela lo potete fare ma io per esempio perché scelgo per esempio come oggetto parent quell'oggetto piuttosto che un altro inserisco un empty e sto a posto quindi molto spesso gli oggetti empty si utilizzano come parent quindi come oggetti guida dei legami di parentela perché sono molto 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 utili nel caso appunto vogliamo andare a si vogliamo andare a spostare tutti gli oggetti in un solo colpo senza doverli selezionare tutti uno per uno ma anche dall'outliner potrebbe essere scomodo e o anche con i metodi di selezione avanzata come select pattern potrebbe comunque essere scomodo invece così in questo modo con il legame di parentela è veramente molto 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 semplice spostarli tutti in un solo colpo senza contare appunto che un empty appena lo vedo lo vedo subito dico ecco il mio parent del mio legame di parentela quindi il mio oggetto guida perché molto spesso gli empty si utilizzano proprio per questo e per sicuro che ovviamente non si usano solo per questo abbiamo fatto prima per esempio l'esempio di uno spostamento del punto focale di una camera oppure abbiamo fatto l'esempio poi in futuro vedremo sempre come andare a collegare come andare a dire alla camera guarda inserisci come punto focale questo determinato oggetto andremo a vedere sempre come animare gli oggetti e già da qui potete imparare tutti questi bei trucchetti quindi appunto spero che abbiate trovato interessante questa l'utilizzo appunto dei legami di parentela quindi questa parte un pochino più interessante della lezione adesso andiamo con la parte noiosetta cioè la parte sulle selezioni relative ai legami di parentela ho deciso di effettuare l'esercizio sulle selezioni dei legami di parentela per relativi alle selezioni dei legami di parentela per un motivo in realtà molto molto semplice che per spiegarvele bene penso sia utile avere una girattia complessa quindi non un oggetto e dei figli ma un oggetto che ha dei figli che hanno a loro volta degli oggetti figli che hanno a loro volta degli oggetti figli come appunto in questa scena in questa non in questa scena in questa collezione la collezione parentela 1 che come notiamo ha una complessa parentela allora in edit mode avevamo visto le opzioni select more and less bene adesso vi voglio andare a spiegare velocemente che il select more and less all'interno dell'object mode è una tipologia di selezione collegata ai legami di parentela selezionato un oggetto select more mi va a selezionare tutti gli oggetti direttamente figli dell'oggetto selezionato e se io clicco di nuovo select more mi selezionano anche i figli dei figli e se seleziono di nuovo select more i figli dei figli dei figli se vado a selezionare ancora select more i figli dei figli eccetera e spero di essermi spiegato select less fa esattamente il contrario è come fa il contrario di select more mi deseleziona un oggetto figlio cioè praticamente se select more mi estende la selezione lungo la gerarchia select less me la rimpicciolisce come vedete cliccando su select less deseleziono piano piano gli oggetti figli poi abbiamo se io seleziono un oggetto select parent mi va a selezionare direttamente l'oggetto padre quindi l'oggetto che viene eseguito select child rispetto all'oggetto selezionato mi va a selezionare direttamente tutti gli oggetti figli child mi seleziona tutti gli oggetti figli child mi seleziona tutti gli oggetti figli dell'oggetto selezionato child mi seleziona tutti gli oggetti figli dell'oggetto selezionato e così avete capito vi faccio notare che select parent e child è una selezione non additiva mentre select more e less ovviamente lo è poi abbiamo estend parent che anch'esso mi va a selezionare gli oggetti select parent che anch'esso mi va a selezionare gli oggetti genitori quindi gli oggetti padre si chiama con shift aperta parentesi quadra mi va a selezionare l'oggetto padre l'unica differenza è che dell'oggetto già selezionato l'unica differenza cioè le due differenze A non è una selezione cioè è una selezione additiva cioè estend parent mi va a selezionare appunto l'oggetto padre dell'oggetto selezionato anzi dell'oggetto attivo selezionato però quello che avevo selezionato prima me lo lascio appunto selezionato quindi praticamente mi fa risalire la gerarchia piano piano l'altra differenza è che mi va a selezionare il padre dell'oggetto attivo e automaticamente l'oggetto attivo è quello che ho eventualmente appena selezionato con estend parent che vuol dire io seleziono per esempio il mio cilindro il cilindro è l'ultimo posto della gerarchia con estend parent mi va a selezionare il genitore del cilindro quindi questa Susanna e il cilindro me lo lascio selezionato e anzi l'oggetto appena selezionato quindi l'ultimo che ho selezionato diventa quello attivo quindi con estend parent lui mi va a selezionare l'oggetto il padre dell'oggetto il genitore in realtà dell'oggetto attivo ora l'oggetto attivo è l'ultimo che ho selezionato quindi Susanna qual è il padre di Susanna direttamente il cono e infatti mi andrà a selezionare il cono estend parent ora però è il cono che è diventato quello attivo così estend parent adesso mi va a selezionare il padre del cono cioè la sfera e quindi praticamente mi fa risalire la catena gerarchica ovviamente estend child è il contrario mi va a selezionare il figlio anzi tutti i figli dell'oggetto che in questo momento ho selezionato è una selezione anch'essa additiva e diventa attivo diventa attivo no niente è una selezione additiva certo e la caratteristica è che in questo caso mi fa discendere sempre la catena gerarchica cioè rispetto all'oggetto che ho selezionato estend child mi seleziona tutti i suoi figli se vi premo nuovamente invece si l'ultimo il figlio appena selezionato è l'oggetto attivo estend child mi seleziona tutti i figli dell'oggetto attivo estend child mi seleziona tutti i figli dell'oggetto attivo e così via in altre parole estend child mi fa discendere la catena gerarchica mi seleziona tutti i figli poi i figli dei figli però sempre in modo additivo e queste sono le varie tipologie di selezione legate ai legami di parentela ora magari do il nome lezione 13 empty e parent invece che empty legami di parentela perché forse empty legami di parentela è troppo lungo però proviamo vabbè in ogni caso ora rinomino anche la scena con il nome del video ah vi faccio notare che le dimensioni di questo pannello dove inserire il nome della scena cambiano per adattarsi alla lunghezza del nome della scena non me ne sono l'ho notato adesso va bene spero che questa lezione sia stata interessante spero soprattutto che sia stata molto utile perché le gambe di parentela sono molto importanti all'interno di blender io vi saluto e ci vediamo alla lezione numero 14 spero che questo corso stia continuando ad entusiasmarvi ma soprattutto spero che lo stiate trovando utile che vi stia servendo per il vostro apprendimento di blender vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione e ci vediamo